dal 19 febbraio 2021 inizierà il percorso per giovani e adulti per quanto riguarda il cammino di preparazione alla cresima allora vito ci puoi dare maggiori dettagli abbiamo immaginato insieme a don carlo pisani e devo dire coinvolgendo anche le altre parrocchie di agropoli di fare un percorso rivolto in particolare ai giovani quindi parliamo i ragazzi che non hanno fatto la cresima appunto da ragazzini e gli adulti quindi sopra i 18 anni anche trentenni quarantenni chi casomai deve sposarsi e non ha ancora ricevuto il sacramento della confermazione della cresima quindi un cammino un po particolare un po sicuramente più snello rispetto a quelli che si fanno abitualmente con i ragazzi più piccoli ma un cammino che possa realmente accompagnare ad una consapevolezza dell'incontro con Gesù infatti l'abbiamo chiamato 10 step per incontrare Gesù perché in ognuno di questi appuntamenti che sono in programma il venerdì sera alle ore 20 se lo consentiranno la situazione pandemica lo faremo in presenza se i numeri non saranno nemmeno troppo ampi se no lo faremo con gli strumenti telematici però in questi dieci appuntamenti ciascuno sarà chiamato ad interrogarsi su delle cose concrete un'esperienza concreta che si fa nella vita per poter imparare a poco a poco guardandosi dentro ad affrontare la vita con uno spirito diverso questi dieci step quindi entrano nell'esperienza delle persone cercano di stimolare di stimolare una maturità di fede e quindi è importante appunto forse è anche bello anche per chi ha già la cresima fare un cammino di questo tipo anche perché l'impegno non sarà naturalmente pesante perché parliamo di dieci appuntamenti 10 appuntamenti un'oretta il venerdì sera quindi un modo anche per per vivere per scoprire qualcosa di più di sé naturalmente è possibile iscriversi è necessario anzi iscriversi quindi lo si può fare contattando don carlo contattando anche me oppure gli altri parroci che naturalmente possono raccogliere queste disponibilità è una bella occasione proprio per per provare a vivere con maggiore consapevolezza la propria esperienza di vita e di fede quindi l'invito è rivolto a tutti quanti coloro i quali appunto possono sentirsi stimolati da questo percorso